Incidente mortale in A1, chiuso il tratto autostradale tra Fidenza e Fiorenzuola, un uomo di 66 anni ha perso la vita. Un cadavere nel Po. Potrebbe essere il corpo di una cinquantenne scomparsa a Pavia alcuni giorni fa, affiorato oggi a Isola Serafini. Aperte tutte le ipotesi, indagini in corso. Gli impegni dei primi 100 giorni. Tutti i sindaci eletti domenica sono stati ospiti di fuori sacco express ieri sera su Tele Libertà. In auto 34 mila euro e cocaina. I carabinieri hanno arrestato un tunisino di 26 anni durante un controllo. L'auto su cui viaggiava era della fidanzata piacentina. Bilancio da 10 milioni di euro. Approvato il documento della provincia. 4 milioni per la palestra nell'ex laboratorio pontieri. I rimanenti per la viabilità. Via libera ai fondi per la frana di Bramaiano. Pro. Colella in pole per il dopo Viali. Dopo l'approdo del tecnico milanese al Sud Tirol è caccia aperta al successore. L'ex Renate rientra in un folto gruppo di candidati. In casa Piacenza, Franza ad un passo.